salve amici di casa luce eccoci qua siamo tutti quanti in quarantena e dobbiamo continuare a rimanere a casa perché questa nostra attenzione sta tutelando noi tutte le persone care le persone anziane e ci aiuta insomma a contenere anche questa emergenza che è veramente stata un fulmine al ciel sereno per tutto il mondo ma sono sicura che ce la faremo cerchiamo di utilizzare questo tempo facendo cose che magari prima non riuscivamo a fare ascoltiamo musica scriviamo anche scrivere le proprie sensazioni le emozioni i ricordi di questi momenti ci aiuta a scaricare un po di emotività che dire io vi lascio un pezzettino di una canzone e ci vediamo presto mi raccomando sul morale e buona musica grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Cielo